Va Mertens! Una meraviglia! La punizione di Mertens! 2-0 Napoli! Amsic, Mertens per la tripletta, in area di rigore, tutto solo, MERTENZ! La punizione di Mertens! Amovic, Mertens arriva a recuperare il pallone, Mertens davanti da Tarushanu, MERTENZ! La punizione di Mertens, MERTENZ! La punizione di Mertens! Attenzione, Mertens, 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 7-1! La punizione di Mertens! 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 Mertens cerca lo spunto, tunnel su Gonzalo, Nolucca, il tentativo di Amcik, la ribattuta! Il pallone è partito, il pallone è fermo, i regini chiudono, l'è finita Mertens! 1-0 Napoli, al trentaseiesimo, alla prima, occasione buona, fa 1-0 Tris Mertens! Il pallone è arrivato al Belga, dopo il risultato di spalle... Con le mani Boulam lunghissimo, a pescare Mertens in controllo, con il destro G! Il pallone è un pallone di risvertezza, che non trova il 2-0 davvero per niente... ... ... ... ... ... ... ... ...